ciao a tutti ragazzi bentornati in questo ottavo episodio della serie di minecraft oggi sono qua chiuso sotto terra perché siamo anche vabbè sono chiuso qua perché aspettate che cavo le torce e sono niente in creativa perché allora volevo farvi vedere un paio di cose che ho costruito io insomma ecco questo è allora questo è il creeper questa è la spada di diamante questo è il piccone di diamante questo è super mario cioè con un cuore questo è degli angry bors quello è un fuoco d'artificio e questo non mi ricordo come si chiama per precisione quello dei pokémon poi ho fatto questo elicottero poi lo potete vedere come un'altra cosa comunque è un elicottero che volevo farlo anche sulla serie uguali identico ok io adesso qua sotto vedete guardate ciao ho lasciato il coso da praticamente qua dovrebbe venire tutto tutto come si dice aspettate che si ritrovo il suo mattone aspettate eccoli qua dove sono eccolo perfetto le ho lasciato questo dopo si apre e va giù è un elicottero costruito da me così per invenzione ok qua c'è il come si chiama il pilota anche se in realtà ce ne sono due comunque vabbè e questo qua vorrei riportarlo appunto nella serie se è possibile ovviamente non tutte ma solo l'elicottero non ci ho messo neanche tanto però nella nostra serie ci metteremo un bel pezzo detto questo possiamo passare alla nostra serie che adesso caricare al mondo ok bene qua vedete siamo in sopravvivenza come come sempre allora io ho fatto molti cambiamenti off camera allora qua giù non ho cambiato niente però ho cambiato su che sono andato uccidere un casino di mucche un casino di mucche e mi sono preso tantissimo canne da zucchero come vedete ancora le abbiamo e ho costruito questa grande libreria ok e ci ho messo davvero tanto a trovare le mucche poi ritornare a casa perché mi ero perso e di qua di là comunque poi ho fatto non ci ho messo neanche tanto comunque a fare qua questo l'ho rifatto tutto di mattoni poi nel frattempo ho messo questo a cuocere il ferro e poi ho trovato dell'argilla da fare dei mattoni l'argilla adesso vi faccio vedere anche dove l'ho trovata perché noi faremo questo aspetta questi da mettere qua nel pavimento sul pavimento quindi craftiamocene solo che ce ne scappano solo otto e direi che sono un po pochi quindi ci serviranno altri mattoni quindi uno due tre quattro cinque sei sette e otto anche questa è andata e facciamo così eccoci qua preferisco fare le slab perché almeno vengono più pezzi come avete visto da otto siamo riuscite siamo riusciti scusate a farne un botto adesso l'incudine dove è passata mi sa che ci tocca rirompere vediamo eccola lì buttiamo via il quarzo ok presa ok perfetto perfetto così dovrebbe venire in poche parole tutto cosa poi non è mica finita tutto qua eh prendiamo questa e facciamoci poi questi questi ok perfetto da poi rifarci questi tac che ci saranno utili da mettere qua giù giusto sono andato anche un po pochissimo avanti qua giù è giusto aspettate opzioni facile ehm sono andato avanti giusto un po' si dai oddio mi hai fatto venire un colpo maremma cagna come avete visto ho fatto così perché mi sono preso un bel colpo vabbè comunque sono andato abbastanza avanti quindi adesso ne abbiamo un bel po' quindi direi che possiamo andare avanti sì sì lì c'era la redstone che l'avevo lasciata lì comunque si può sempre prendere come vedete sono ancora pieno quindi ragazzi ci tocca andare su risvuotare e poi ritornare giù eh sì purtroppo vediamo se ci sono cavolo diamante ho il rischio portarceli dietro però perché se arriva un creepers bom quindi quindi fatemi vedere qua c'è un po' di roba io lascerei vediamo 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 se ci sta un po' di sta roba qui eh tutta mezza fraida vediamo se ci sta qualcosa altro vediamo vediamo qua non ci sta più niente vediamo qua qua si che ci sta anche due palle abbiamo allora vediamo eh ci possiamo lasciare questo che magari dopo in futuro si può tracuocere queste sarebbe meglio portarceli i funghi che non ci servono una piva le due palle queste ci fanno sempre comodo giusto i diamanti eccoci i diamanti che ci fanno sempre comodo e qui ci rimettiamo a posto un po' così ok facendo così guardate così tac 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 e tac e anche questi che ci servono ok perfetto possiamo si ritornare vedete che mi è avanzato uno di questi e ancora dieci di cuoio qui c'era anche un libro ah nel frattem tempo lo possiamo mettere sempre cuocere però dov'è questa e questa vediamo qua se c'è qua no e qua no su in cima tac facciamo cuocere già che ci siamo mi serve dell'altra argilla si ma tu mi vedi da troppo distante non va bene e adesso cos'è qua la fiera si c'è la fiera beh stiamo guardate lì anche il creeper adesso vi faccio esplodere dai siete morti no ce ne ho addirittura un altro ancora ma la c'è uno spawn secondo me non esplodere non esplodere va bene esploso fai sempre come cazzo ti pare comunque va bene noi siamo bombati di roba attenzione c'è qualcuno si ecco lì la o ragno oh ci ha droppato anche un vecchio redstone ah cavolo non vorrei che mi facesse saltare in area un creeper quindi io direi buona idea di richiudere ogni cosa tac tac va bene dai di fare a c tac tum pat 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 chiudiamo io sarei curioso di andare a vedere che cavolo c'era giù sotto ah sì forse quella caverna che aveva scavato nano negli scorsi episodio no vabbè 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 eccoci chiudiamo lo so che è un po' noioso guardare sempre la stessa roba comunque ci abbiamo ci abbiamo questo da fare nel prossimo episodio se non in questo iniziamo a costruire l'alicottero vediamo se ci ho preso no vabbè ne ho un cubetto nel frammento tempo lo qua si può chiudere 1 2 3 4 5 6 e via via chiudiamo chiudiamo che non vogliamo nessuno noi ecco mettiamo la torcia perchè non vogliamo nessuno no ma cosa sono tutti questi buchi che vedo quale è puro ii qui sono indeciso su farlo di un materiale particolare Vediamo se mi avvelena Sì, vabbè E vabbè per 5 secondi Io ho paura di andare su Ho paura però Mi tocca andare A parte che non so cosa vado a fare Comunque vabbè Ok non c'era da avere tanta paura Perché li abbiamo fatti scioppare tutti Ehi tu che c'è Non c'è E se fanno quanto ci vuole Mamma Ah ok Facciamo il mattone E poi se poteva fare anche le scale Sì Solo che la staccionata Io non Eccola Ah ok Quindi siamo a posto 32 Eh sì ciao Poi guardati che quando è la fine Non è che ne servono poi più di tanto Io direi una cosa Andiamo Io le porto aperte Qua risco un botto Nel frammento tempo Lo tango Piezionano lì E chi se ne frega E la piscazzo Lì l'abbia lasciati giù Efficienza 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 Proveremo 30 livelli Fuck Dove siamo ecco Troppi troppi livelli Creeper non ci penso neanche Guarda Nel frammento tempo Vediamo se viene giù No Bene Quanto ci vado che non viene giù Noi C'è qualcuno? No Questa volta ho illuminato bene Pala pala Eccola Eccoci Scaviamo Scaviamo Fino alla fine Fino alla fine Fino alla fine Fino alla fine Noi scaveremo 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 Fino alla fine Grazie Grazie diamante no eh no vabbè ci accontentiamo di quel cavolo di ferro per forza non è la vita bisogna incontentarsi di quello che uno ha nel frammento e il tempolo dammi la torcia nel frammento e il tempolo yuppie c'è un ferro ferro su ferro su ferro dai raga l'abbiamo quasi ultimato mi sa che 44 pezzi vanno via subito vediamo 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 si vanno via com'è l'olio vanno via com'è l'olio come sta l'olio e per uno e per uno e per uno non ci basta mai niente non ci basta mai niente taralero io sono felice quindi salto bene quindi andiamo su andiamo a vedere che succede che succede che succede che succede che succede sapete cosa posso fare mi è venuta un idioma mi è venuta un idioma mi è venuta un idioma adesso è giorno si andiamo voi non sapete cosa è venuto in mente a Berta voi non potete sapere perché io sarei un fisale come si chiama buona, bella non è difficile farlo quindi lo possiamo fare anche noi perché Berta è tutto fare tutto, tutto, tutto fare ma tutto, ma tutto, ma tutto ma tutto, ma tutto fare ma ci sta? sì, 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 ci sta, ci sta cavolo, dopo è da cuocere dopo è da cuocere mamma mia argilla, argilla, argilla no, eh argilla vuoi vedere? non me l'ha mica dato l'argilla l'avevo trovata qua è lì questa volta niente vediamo se è qua sì, è questa è sabbia ma vaffanculo questo ci serve guarda, ti saluto muori, stammi bene alla prossima ci serve per colorare il vetro ho svelato tutto vabbè ho fame c'è queste si mangiano queste le mie mucche ho ucciso il casino di mucche per mangiare che crudele che sono ma quel coso lassù davvero non si leva vabbè comunque comunque va bene cuoci questo dammi a me questo prendi te e cuoci lì poi questo dammi a me crafting table questo qua quello lì 14 pezzi giusto poi prendi qua prendi là metti questo qua e siamo a posto niente direi che anche per questo episodio può finire qua commentate iscrivetevi lasciate un like ciao a tutti e alla prossima ciao ciao